La luce è davvero difficile, credo. Quali sono le sensazioni quando sei sul podio? Sono molto felice perché è stato un weekend difficile per noi quindi avere un podio è brillante dopo aver venuto dall'interno E cosa c'è il challenge con Michelotto? Si, era molto difficile, ho provato tutto ma in fine ha fatto il lavoro per lui ma ho fatto il secondo, quindi è ancora abbastanza buono Grazie, bravo!